Abbiamo pensato dopo tutti questi mesi di incontri online di creare le condizioni, visto che oggi si può, per un incontro in presenza. Abbiamo scelto di farlo in questa area perché sarà l'area prevista, io mi auguro solo prevista, per la realizzazione del digestore anaerobico, in modo tale che la gente possa rendersi conto di quelle che sono le criticità di un progetto così impattante in termini di occupazione di suolo, le criticità derivanti dal cumulo con la centrale biomassa che già esiste qua, il fatto che non sia un'area dissestata e non ci siano neanche discariche limitrofe, questo per far sì che la gente veda con i propri occhi, li condurremo anche lungo il percorso che finisce sul fiume Foglia perché anche il fiume Foglia è un'ulteriore criticità vista la vicinanza e abbiamo pensato che così la gente possa rendersi conto in maniera inequivocabile di che cosa noi stiamo parlando e di che cosa abbiamo parlato in tutti questi mesi. Come sono evolute un po' le cose in queste ultime settimane, anche perché c'è sempre più silenzio in questo argomento? Noi abbiamo cercato sin dall'inizio di informare, rendere le persone consapevoli su che cosa significa un digestore da 105.000 tonnellate, che cosa significa avere qualcosa come 14.000 camion che transiteranno in quest'area, che cosa significa avere emissioni in atmosfera di ammoniaca, di acido solfidrico, ma abbiamo sempre incontrato questo muro di gomma. Abbiamo anche organizzato degli incontri online con chi ci rappresenta nelle istituzioni. Dobbiamo, al nostro malgrado, sottolineare che il sindaco e il suo gruppo non ci ha ancora risposto. Noi chiederemo, e lo faremo anche oggi, che venga anticipatamente dichiarata la posizione dell'amministrazione di Vallefoglia che porteranno poi all'interno della conferenza dei servizi nel procedimento di valutazione di impatto ambientale. È un momento assolutamente importante e non indipendente dalla volontà del comune di Vallefoglia. Il comune di Vallefoglia, così come hanno fatto altri comuni interessati da progetti simili, ha il dovere di informare i cittadini su quali saranno le posizioni che porterà all'interno della conferenza. Anche perché questo avrà un impatto nei prossimi anni sulla qualità della vita di tutti noi, del territorio e della salute dei cittadini. Ultimissima cosa, cittadini protagonisti, avete raccolto più di 5.000 firme a testimonianza di come sia o mai un parere comune. Sì, abbiamo raccolto più di 5.000 firme, abbiamo semplicemente informato e la gente ci ha seguito sostenendo la nostra azione. Anche questa mattina la gente è qua numerosa per dimostrare che comunque è preoccupata per questo progetto. Questo progetto è stato semplicemente spiegato dalla proponente. Noi vogliamo che chi ci rappresenta nelle istituzioni, ai vari livelli, venga a discutere. Oggi è possibile, grazie alla riapertura che oggi ha reso la pandemia meno impattante. Vogliamo avere la possibilità di incontrarci, vogliamo avere la possibilità di essere informati e che vengano manifestate le posizioni in maniera chiara e inequivocabile. Perché questo deve fare chi rappresenta i cittadini all'interno delle istituzioni. Grazie a tutti.